In un periodo come questo i Sardinia Motorcycles sono vicini con i cuori e i motori a chi soffre e chi cerca di alleviare la loro sofferenza. Ora più che mai dobbiamo stare a casa, lontani ma vicini. Noi restiamo a casa, fanno anche tu. Ehi, voi due, dove volete andare? Noi stiamo a casa. Anche noi restiamo a casa, lontani ma vicini. Noi restiamo a casa. Andrà tutto bene. State a casa, state a casa. Ciao a tutti ragazzi, io sto a casa. Io resto a casa e lei sta qua con me. Voglio andare in moto, poca roba. Tranquilli, dobbiamo stare a casa. Saluti dal basotto. Ciao a tutti. Andrà tutto bene? Forse. Stai qua con me. Eh? Febbi. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.